Benvenuti in un nuovo episodio, oh no, ho saltato io, di Minecraft MeepleCraft Dimension all'Ascension. Ci troviamo nella header e stiamo venendo attaccati da nuvole che ci fanno spostare. Ok, abbiamo il volo in creativa quindi non è un problema. Qui stiamo cercando un blocco, che è l'Hell Firestone, e qua ci dà degli scanner module settati su alcuni blocchi che fanno parte dei dungeon. Quindi, fra l'altro lo scanner per le strutture può funzionare qui, vediamo. Ok, no, non funziona. Quindi, quello per i blocchi? Immagino di sì, ma non abbiamo dungeon vicini. Quindi è il momento di esplorare un po' e vedere se riesco a trovare un dungeon. I maiali con le ali sono fantastici, è bellissimo. Ma tipo, questa legna fa qualcosa di speciale? Che si può... no, che golden oak sembra qualcosa di importante. Troppa ora e basta? Sembra nulla di importante, ok. Ho aumentato la risoluzione, spero che non laghi troppo e vedo anche già lì un'altra struttura. Fatto bene. E lì c'è un'altra. Cosa c'è qui? Ho un bottone degli Skeleton Horse. Cosa succede se lo premo? Meatball right, ok. Ok, mi ha droppato Sentient Meatball e basta. Hai qualcos'altro? Si può continuare a premere all'infinito, quindi possiamo farmare le Sentient Meatball in questo modo, anche se la farm di Scrappo ce le sta comunque dando passivamente, quindi non credo sia un problema. Nulla di utile. Qui andiamo a vedere quello. Dark Star Stone. Ma c'è qualcosa? No, non c'è niente. Oh, sì che c'è qualcosa. Ci sono degli spawner di toccatrice e delle ceste. The Dark Star Crystal. Ok, immagino ci sia in tutte le ceste, sì. Questo potrebbe essere utile per qualcosa. Quindi qui Starlight perché ha valore DMC. Ok, buono che l'abbiamo trovato. Poteva essere un altro indovinello. E ora si va sul Mega Tempio, che è doppio fra l'altro. Ok, questo è un Angelic Stone, se non sbaglio. Sì, è questo. Quindi questo possiamo toglierlo. Perché il dungeon abbiamo trovato. Come si entra? Si entra dall'entrata, mi sembra più che giusto. E Mimic. Su serio? Troppano ceste? Ok. Sono tutti Mimic? No. Blumo Egg? Hmm. Sembra cose non troppo utili. Ok. Quindi alcuni sono Mimic e altri Loot. E non possiamo colpirli prima di aprirli. Va bene. Falchirie si sta prendendo in giro. Se continuiamo a spammare. Prima o poi la colpisce? Oppure... Oh, sì. Adesso possiamo colpirla. È immune al danno da distanza? Sì, sì. Forse con la Sentience Sword facciamo più danni. Sì, decisamente di più. Ok. Cosa ci droppi di interessante? Victory Medal. Non ha usi. Ok. In teoria ho esplorato tutto questo piano e si sale. E... Sanite e Leggins. Si possono riconvertire? No. Mi sa che Loot sarà deludente. Quindi direi di ignorare le ceste e di cercare il boss. Quindi continuare a salire. Credo. Non so che boss sia. Però qua si scende. Ci sono altre Valkyrie. L'Amblosium potrebbe essere utile. Ho dato un'occhiata a questo piano e non mi sembra di vedere altre cose. Quindi forse bisogna tendere. Sì. E qua ci abbiamo la Regina delle Valkyrie. Col suo trono. E possiamo parlarci? Ho fatto right click. Puoi parlarmi? A proposito di questo posto? Questo è un santuario per le Valkyrie che vogliono riposarsi. Ok. Never mind. Goodbye. I wish to fight you. Vuole 10 Victory Medal. Ok. La Regina vuole prima che asfaltiamo le sue Valkyrie. Va bene. E ho 9. Non trovo più Valkyrie. Mi era sembrato di vederne reiche. Quindi non me ne sono preoccupato. Ma forse sono esattamente 10. Oh. No. Ok. Questa mi ha spawnato davanti. Sì. Sì. Ok. Sono più di 10. Decisamente. Ok. Signora Valkyria. Ho le 10 medaglie. Ok. Possiamo iniziare? Possiamo iniziare? Adesso non vorrei essere un pochino crudere. Ma se tipo facessi così. Oh. Oh. 300. 300. Morta. Wow. Che boss fight incredibile. Ok. Ci ha dato la silver key che immagino serva per il prossimo dungeon. E ora possiamo rompere i blocchi. E questi ci servono. Per completare la quest. E anche per vari crafting. Per fortuna non valori MC. Quindi ora si cerca carved stone oppure hellfire stone. Ok. Ho trovato. Cercando le carved stone. Non è proprio visibilissimo. Come fai a capirlo senza lo scanner? Anche da sotto? Uh. Zenite. Questo serve. Ma non riesco a capire dove sia l'entrata. Non credo ci sia a questo punto. Oh. Vediamo. Ok. Siamo dentro. Posso già rompere la stone? Che ha l'ora di MC. E sono mimic. Non mi sembra. Oh. Alcuni sì. Ok. Immagino ci sia un boss anche qui. Forse. Oh. Sì. Ok. Questo me lo ricordo. Perché avevo giocato la crazy craft molto tempo fa. E lui me lo ricordo molto bene. Perché ha una meccanica strana. Posso fare il right click o prepararci con i valchiri? No. In pratica può prendere danno solo dai picconi. Questo conta come piccone? Sì. Ottimo. Cioè se per esempio prova a colpirlo con lo shurika non gli fa nulla. E in teoria neanche con la spada. No. Ok. Non so perché. Ma l'idea di sto boss mi piace tantissimo. Cioè lui che si muove solo con il diagonale. Il fatto è che si possa andareggiare solo con un piccone. In teoria diventa anche più veloce. Oh. Sì. Adesso è rossa ed è più veloce. E è andato. Anche lì ci ha droppato una chiave. Di bronzo. E qui sotto abbiamo la treasure chest. Che non si apre. Vuoi la chiave di bronzo? Sì. Ok. Mi ha dato i sentry books che sono una quest. Forse allora forse anche la Valkyrie aveva una chest da qualche parte. Vado a ricontrollare. Ah e questa era l'entrata. Ok sì. Molto meglio. Non si vede dallo scanner perché non ci sono i blocchi di contorno. Però si può entrare anche senza lo scanner il che è positivo. Forse dovrei mettere un builder. In teoria ha la stone e la dirt in void. Se ti attivo elimini la stone e la dirt dell'haider perché non fai il lore edit oppure no? Boh vediamo. Ho memorizzato la posizione. Mettiamo il junk load. E... Ok no no. Fermo fermo fermo. Cos'è? Sono dentro uno slime. Se sparo ti colpisco? Sì. Direi di mettere queste cose in blacklist. Quindi dovrebbe eliminare tutta parte queste. Sì. C'era anche qui. So che queste trapdoors sono strane. Cioè non riesco ad aprirle. E ci passo attraverso. Ok allora posso utilizzare la silver key. E otteniamo un paio di cose. Uh questa ha looting 5. Vabbè non è tantissimo. Quali è sword? Vabbè nulla di troppo speciale. Ultimo dungeon trovato. Quindi mi riabbasso la risoluzione. Perché non vorrei mai che la registrazione ne risentisse. E te sei qui sotto. Non possiamo entrare da sopra. Ok. No ho sbagliato blocco. Oh no. Questa è hellfire stone. Questa non è hellfire stone. Vabbè lo battiamo un'altra volta. E è andato. Ok lui è sempre un piacere da combattere. Cosa cederà questa volta? Arco. Spada. Questo me lo prende da qua. È sempre il mio. Ok. Quindi credo non avrebbe neanche troppo senso far mali con la boot. Perché se i drop sono nelle ceste. Lo strano che mi abbia trovato. No aspetta adesso però non me lo dà più con lo scan. Io non l'ho cambiato. È sempre hellfire stone. Ok. L'ultimo dungeon trovato. Non è neanche nascosto sotto terra. È piuttosto palese nel cielo. Ed eccoci arrivati. Sun spirit. Hai un dialogo? No però sei ostile. Posso attaccarti? No. Posso asfaltarti con un mob crusher? No. Purtroppo no. Quindi cosa devo fare? Devo continuare a fare i click per fargli andare avanti con la storia? Ok. Bla 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 bla. Nessuno può toccarlo. Questo è il tuo avviso finale. Prepare to burn e sono immune al fuoco. As you wish. E mob crusher non lo prende. E lui non prende danno. Né da spada né da shuriken né da picconi. Quindi tipo lui non può danneggiare me. Io non posso danneggiare lui. Non capisco le pallette che non mi inseguono. Oh. Ha perso vita però. Perché? Ok ho capito. Devi lanciare le pallette verso di lui. E i minion però possiamo ucciderli. Ok. Funziona lo shuriken per rimandarglile indietro? No. Devi andare qua. Ah e può anche mancarlo. Chissà se con la sword of the cosmos si può one shotare. E ho come l'impressione che si possa danneggiare se no con queste P.I. Mancato. E non con quelle di fuoco. Ok ci vorrà un po'. Direi che questo è il mio boss meno preferito. Perché non... Cioè è difficile da colpire. Devi vedere dove si sposterebbe andare di paricchio anticipo. E tipo adesso l'ho mancato ma venne lo stesso più o meno. Ogni colpo gli toglie 5. Che non è proprio tantissimo e ci stai piegando un'eternità. Ok preso. Uh. Ma adesso questa Ice Ball è un mob? Sì che è un mob. Ehehehe. Sono tornato alla base perché mi mancavano le Undertank e non avevo la Recype. Quindi ho messo la Recype. Ora possiamo autocraftarle e sono tornato qui con Tender Book. Il boss è fermo. Si è buggato perché me ne sono andato. Non spawnare neanche più le pallette. Sarebbe davvero un peccato se le spawnassi io. Quindi Ice Ball. Mettiamo l'Essence. E poi energia. Può funzionare sta cosa? Sì. Pam. 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 Questo è tracitoso ma... Ehi ha funzionato. Perché in teoria le spawna lui queste pallette. Solo che le spawna molto lentamente. Quindi se lo facciamo noi direttamente possiamo spawmare. E... Accelera di molto la boss fight. In particolare se si bugga in un angolino. Come è appena successo. Ok quindi possiamo prendere Self-Earthstone? No. Ho la chiave. Se usarla da qualche parte. Si è buggato quindi... Devo trovarne un altro? Spero di no. Ma mi sembra probabile. Ok usciamo. Andare a cercare un altro dungeon. Quello che avevo trovato prima si era buggato. Quindi ne ho trovato un altro. E in realtà posso già colpirlo prima di fargli fare tutto il discorso. E ne manca una ed è andato. Sì. Sconfitto. Ora posso minare? No. Perché no? Devo fare qualcosa con il Sun Altar. Devo posizionarlo e fare dai click. E mi faccio un Block Breaker. Posso rompere questa Hellfire Stone? Mi sa di no. Quindi devo trovarne un altro. Stavo giusto controllando queste isole con gli alberi d'oro che ci sono nel cielo. E qua c'è una Skystone Chest con Alluminite Fork. Che stiamo già ottenendo dalle Scrapbox e ne abbiamo una volantina. Quindi è piuttosto inutile. Ma cos'è che serve questa? Non ho idea. Ho provato un altro. Questo è il terzo. Se hanno già preparato lo spawner bisogna fare tutta l'attività era. Quindi bisogna farlo parlare. Deve dirci che è invincibile. Che è troppo forte. E poi possiamo ararlo con le sue stesse armi in pratica. Ok. Final warning. E... Ok. Iniziato. Quindi attivare lo spawner. In teoria adesso. Se lo uccidiamo adesso. Non è difficile colpirlo anche con questi che spawnano. In teoria questo è l'ultimo. Speriamo che vada. Ok. Sì. Possiamo romperli. Ok. Al terzo tentativo è andato bene. Potevo farlo direttamente al primo. Se continuavo la boss fight come deveva essere fatta. Va per la scienza. Oh si è anche aperta la danza segreta. Immagino Golden Key. Esatto. E qua abbiamo Vampire Blade e un set di armatura. E mi sa che con questo che ci serve per fare la Deep Mob Evolution abbiamo finito l'Header. Ma l'Header piace parecchio come mod. Il concetto del contrario del Nether che si fa con la Glowstone che in realtà è il paradiso eccetera è bellissimo. I boss mi piacciono parecchio a parte questo. Questo è terribile. Però si c'è. A parte questo c'è troppo altro. E credo che rimuoverò la dimensione dal mondo per risparmere spazio perché dubito ci dovremo tornare. E anche perché ho esplorato parecchio. Cioè per trovare tre di questi. E in teoria ogni volta che fa il backup registra tutto questo che serve a troppo. Quindi mi torno a casa. E cancello la dimensione. Prima di cancellare la dimensione. Qui è dove avevo lasciato il builder. E si è messo a minare un dungeon. Ok. E ha minato le chest mimic. Sul serio? Cioè quindi se la piazza e prova ad aprirla diventa un mimic. Sì. Non pensavo il builder potesse minarle. Tra no. E comunque abbiamo un po' di gravityite, zanite e un sacco di ambrosium. Che è buono credo. E alla fine dato che sono queste tre le cose che ci servono. Almeno dall'header. Direi che posso fare una whitelist di solo questi. Direi che per il momento queste quantità possono bastare. Ci ho messo un drover 2x2 con un paio di upgrade. E abbiamo più o meno 1000 di gravityite, 2000 zanite e più di 8000 di ambrosium. Ho visto che comunque si possono ottenere con una struttura multiblocco che dovremmo poter fare. Questo è importante non cestinarlo. Perché ogni tanto li cestino i drover. Quando per esempio sono bloccati oppure hanno un item a loro inventarli e non serve, li cestino e basta. Piuttosto che piazzarli nel mondo, togliere le configurazioni per farli staccare con gli altri. Direi che questo drover momentaneamente ce lo metteremo qui, dove ci sono tutti gli altri ore. Poi c'è ma la gravityite si può rompere. Che cacchio? Ah sale verso l'alto? Sul serio? Quindi va minata così. E una volta rotta, ridroppa l'or una volta rotta. Ok, quindi per processarla è necessario l'header enchanter oppure l'or crusher. Ma non so quanto possa funzionare perché questo mi sembra sempre un po' strano. L'altar possiamo farlo. Ambrosium ce l'abbiamo. Quindi posso mettere ambrosium e gravityite? Sì. Posso mettere qui per esempio dove abbiamo l'ape per accelerare? Sì, così va un po' più veloce. E così abbiamo anche l'enchanted gravityite che dovrebbe essere l'ultimo materiale dell'header. Esatto. Ok, rimuovo la dimensione. L'obiettivo di tutto questo era poter iniziare la Deep Mob Evolution. Continua a venirmi Deep Mob Learning ma si chiama Evolution. Mi sono messo le recipe e c'è un piccolo problema. E cioè i Suit Covered Machine Casing richiedono scaglie di drago. Dato che la texture non è molto simile pensavo fossero entrambi sia Serpente però no è drago. Adesso ho messo quella rossa perché sono quelle che abbiamo di più. Ne abbiamo 37. Però hanno una recipe alternativa nella crafting table normale con le Suit Covered Plate, le Pristine Shulker Matter. Al posto di ovvero utilizzare l'Elf Firestone e i Tier 2 Shard e due di Ossidiana ma i due di Ossidiana va bene. Non è troppo un problema. Le Tier 2 ne avevo 28k quindi non è un problema. Il problema sono queste che richiedono le scaglie di drago. Potrei fare una farm ma è più semplice Slime Matter. Quindi queste sono le prime due cose che mi piacerebbe automatizzare passivamente senza ottenere loot perché non ci serve a troppo. Quindi Slime e Shulker. Mi faccio quindi due Simulation Chamber. Andiamo prima però a fare un po' di Suit Covered Redstone. Tasto sinistro su un blocco di Call. O posso anche tenere premuto, bellissimo, quindi non devo sfumare il click. E abbiamo ottenuto 4 stack. Allora dovrei poter fare due Simulation Chamber. Sì, fai. Ottimo. Poi ci serve il Deep Learner che possiamo fare. Ed eccolo qua. E il Data Model. Ok, me ne sono fatto uno stack. Pensavo si staccassero uno. Poi abbiamo detto che ci serve lo Slime e lo Shulker. Li mettiamo dentro al Deep Learner. E dobbiamo farli diventare almeno basici. Quindi dobbiamo spawnarne un paio e ucciderli. Ma non è che dobbiamo spawnarne. Possiamo anche andarli a cercare. È più semplice se li spawniamo e li uccidiamo qui. Sarebbe davvero molto bello usare la Deeply Learning Comb ma è troppo avanti per come siamo messi adesso. E che è un peccato. Per quanto riguarda gli Slime abbiamo già qui un doppio spawner. Posso quindi disattivare il rituale e iniziare a massacrare Slime. Questo dovrebbe essere piuttosto semplice perché gli Slime che si dividono contano come kill. E infatti ce li abbiamo praticamente già Self Aware che è il tier massimo. Ora posso riattivare il rituale. Ottimo. Il prossimo non sarà così facile purtroppo perché se non sbaglio questi inizieranno a teletrasportarsi ovunque. Vabbè direi di iniziare. Ce l'abbiamo basic. Non credo di volerlo portare Self Aware subito. Direi che il superior va più che bene. E ora si ripulisce da tutti gli shulker che ci saranno in giro. E qui dentro è pieno. La Deep Mombe Learning la faremo qui. E direi di iniziare subito posizionando le Simulation Chamber e mettendoci Slime e shulker. Uh questa cosa è bellissima che ti dice che non funzionano col punto esclamativo. Ok in teoria la Polymer Clay ha valore di MC. Mi basta mettere un MC Link per esempio qui. E siamo a posto. Poi devo controllarmi un paio di Recipes e servono altre pristine in crafting. Tipo quella dell'Ender Dragon. Che potrebbe far comodo avercela a disposizione anche se le scaglie di Drago credo siano troppo utili. Nel caso in cui mi servano in grandi quantità credo preferirei fare direttamente la farm. Questo è Sharpness 75. Boh. Quindi Ender Dragon. Thermal Element. Ghast. Guardian. Le Witch per le Shiny Scale no perché possiamo farmarle con la Woot. Quindi queste no. Simpillion Bird lo stesso. Possiamo farmarli. E se non sbaglio si ottengono anche dal Miner quindi non è un problema. E non mi sembra ce ne siano altre. Questo sarebbe stra buono. Primordial Fractalites Matter. Vabbè la produzione la vediamo dopo. Per il momento ci facciamo queste. Guardian. Ghast. Qua ci servono un paio di Dust della Thermal. E possiamo fare anche questo. E poi l'Ender Dragon. Ho livellato a Basic, Ghast, Thermal Element e Guardian. Ci manca solo l'Ender Dragon. Solo che dato che è un po' una palla. Vorrei innanzitutto farmene altri tre. In questo modo ce ne rivediamo tre insieme. E poi vorrei poter uccidere il drago con la Glitch Infused Sword. Che dovrebbe raddoppiare la quantità di data guadagnata dalle uccisioni. Per cui ci serve la Trial Key. Deve essere superior per una maggiore probabilità di ottenere il Corrupted Glitch Heart. Poi con uno slime. In teoria mi basta ucciderlo con la chiave nell'inventario. Forse devo colpirlo. Forse devo avere il data model ce l'avevo nell'inventario. Tre secondi fa ho preso quello degli shulker. Ok. Quindi ce lo mettiamo qui dentro. Slime Self-Aware. E uccido uno slime. Ok. Ha fatto la Turment. Ora possiamo fare il Trial Keystone. Piazzarlo ovunque. Tipo qui. Mettiamo la Trial Key. Non va bene ovunque. Deve avere più spazio. Qui va bene. Non c'è nulla di nulla. Il Self-Aware Quartz non è un blocco intero. Una cosa del genere può andare. Mettiamo la Key. Sì, può andare. Ok. Inizia. E ora dobbiamo solo uccidere gli slime. Siamo all'ondata 2. Ondata 3. Ondata 4. Ondata 5. Cosa bella è che gli slime grandi non si dividono. Penultima ondata. E ultima ondata. Ok. Ha fatto suonare anche un Baby Zombie. E ci ha dato Corrupted Glitch Heart. E un po' di slime matter. Con questo dobbiamo fare tasto sinistro su dell'ossidiana. Per ottenere la Unstable Glitch Fragment. Poi lo droppiamo in acqua insieme all'Apice Oro. E ci dà Glitch Infused Ingot. Con cui possiamo fare la spada. Ottimo. Ignorandogli a Yerako. Possiamo mettere i 4... Ok. Forse sono un po' difficili da ignorare. Mi hanno buttato dentro il portale. Dovrei essere riuscito a metterli tutti e 4. Ok. Sì. Non so perché. Ma l'Enderdragon lo distruggiamo con questo Shuriken. Mi basta portarlo a bassa vita. L'ho ucciso per sbaglio. Non ci posso credere. Non ho neanche messo in datamodel qui dentro. Ups. A me sembrava che lo Shuriken non funzionasse contro di loro. Ma a quanto pare mi sbagliavo. Funziona. Quindi direi che ce li togliamo. In pratica loro quando attaccano cercano di seguirti. E se non ti fai colpire rimangono tutti i bagli uniti che ti inseguono. Purple è andato. Tra poco seguirà il giallo che mi ha colpito e se n'è andato dal gruppo. Infatti. Che fregatura. E adesso sta cercando di riattaccarmi. Quindi si riunisce al gruppo. E così è facilissimo colpirli. Ok. Anche lo giallo ci ha lasciato. Ora anche quello blu. Quello rosso. E quello verde. Ok. Andati tutti. Come Will Quality 2000. What? Oh. Interessante. Ok. Direi che ora siamo pronti. Per un altro Ender Dragon. Sono appena salito a livello 30 dell'Astral Sorcery. Buono. Mi sembra più resistente rispetto a prima l'Ender Dragon. E molto più resistente. Non so se colpendolo con lo Shuriken nell'off hand. Con la Glicci Infused Sword il bonus funziona. Quindi gli darei una spadata e basta. Ok. Ha preso. E altro giro. Altra corsa. Anche il secondo in teoria se riesco a colpirlo. Ok. Andato. Tra l'altro la nostra Glicci Infused Sword ha anche aumentato il danno. E adesso manca solo un altro Ender Dragon. Ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo. O sì. Basic. Ottimo. Quindi ci abbiamo sei Simulation Chamber. Ognuna con il proprio data model. Qui ci abbiamo la Xnet. Ho collegato il tutto da dietro. Basta una sola connessione. In realtà non lo so. Forse bisogna utilizzare gli Advanced. Perché forse l'Insert ed Extract si possono fare solo da determinati lati. In ogni caso vediamo. Item. Estraiamo dal Personal di MC Link. A Stack Round Robin. E inseriamo su delle varie Simulation Chamber. Ottengono la Polymer Cray? Sì. Poi creiamo il canale per l'energia. Facciamo in estrazione. E inserisci su tutti. Ctrl C, Ctrl V per copiare. Quindi tutti iniziano a prendere energia. E ora iniziano tutti a funzionare. Una cosa che non sapevo è che il laser può passare attraverso il Dance Cable. Bello. Così ho collegato a uno Storage Bus. Il Drover Controller che mettiamo qui dietro. E ora posso creare un altro canale per gli item. Estrarre a Stack dalle Simulation Chamber. E inserire nel Drover Controller. Sono tutti bloccati quindi non dovrebbe entrare nulla. Però non appena metto l'Ellish Matter per esempio qui. O l'Extraterrestrial qui. O l'Overworld qui dovrebbe entrare in automatico. Sì. Ok quindi si può estrarre e inserire da tutti i lati. Ottimo così. Poi le pristine le mettiamo qui sotto. E non riesco a vedere quanti RF sta usando. E mettiamo la cui più piccola. 6000. Ah però. E gli altri 300. 1500. Ah però. 500, 1000, 2000. Ok. Costicchiano. Non come i 50.000 dell'avuto però costicchiano. Consiglio spassionato. Non utilizzare la Time in a Bottola al massimo sulla Simulation Chamber. Uno prima del massimo va bene. Il massimo a quanto pare si fa a disconnettere dal server. Anche se siamo in single player. Quindi sì. Una volta che sono spawnato l'ho subito rotta per evitare problemi. Però meglio non accederle con la Time in a Bottola. Questa era quella del drago. Volevo ottenere la pristine per mettere il filtro. Ok. Saremo un pochino più pazienti. Ora che abbiamo le pristine slime possiamo mettere questa recipe. Ho già tolto l'altra nella Basic Crafting Table. Mi sono tolto anche quella sull'Advanced. E ora possiamo utilizzare questa. Che non solo utilizza meno cose ma ce ne dà anche il doppio. Sì. Molto meglio. Direi che per questo episodio è tutto. Mi aggiungo le altre dell'Ender Dragon per livellare anche queste. E in questi casi adoro la Exnet. Sì. Precisamente. Il motivo per cui ho fatto 4 Ender Dragon è che nel Digital Mob Agonizer sono quelli che danno più sangue. Gli altri danno 25, 150, 300, 600 al massimo. L'Ender Dragon è l'unico che arriva quasi a 1000. Quindi sì. L'ho fatto per questo motivo. Quindi al prossimo episodio in cui non vedremo solo le pristine ma vedremo anche cosa far male. La Deep Mob non learning ma evolution.